Ehi tu, da quanto tempo stai pensando, da domani inizierò a fare video? Ciao, sono Chiara, allenatrice di Public Speaking e di Video Public Speaking. Ti alleno di persona o via web, anche in inglese e in tedesco. In questo video voglio spiegarti perché è importante avere una Video Personal Trainer al tuo fianco. Hai presente quando ti trovi davanti alla videocamera e inizi a parlare, ma ti accorgi che il tuo discorso non sta prendendo forma? Ti accorgi di essere troppo prolisso o troppo sintetico? Oppure hai presente quella sensazione che provi quando ti trovi davanti alla videocamera e ti senti irrigidito, ti senti non padrone delle tue emozioni, ti senti impaurito e probabilmente anche giudicato dal tuo pubblico? Oppure ti capita di avere voglia di fare video, ma poi sei talmente preso dalle mille incombenze quotidiane, la sghettaria, il cliente, il telefono, Facebook, che ti ritrovi a sera e ancora in quel giorno non hai ancora realizzato un video. E ti ritrovi a pensare, ma sì, dai, lo farò domani. Ebbene, in tutti e tre questi casi una video personal trainer come me può esserti veramente di aiuto. In primis perché avendo me al tuo fianco non correrai più il rischio di essere troppo prolisso o troppo sintetico nei video, semplicemente perché scriveremo insieme gli script per i tuoi video. Poi non avrai più paura del giudizio delle persone perché ti allenerò ad essere spontaneo e felice davanti alla videocamera. E terzo ma non ultimo, avrai con me un appuntamento in agenda. Quindi sarà un appuntamento anche con te stesso. Dovrai dire di no ai tuoi clienti, già perché sai che in quella giornata tu hai pensato di lavorare per qualche ora per il tuo futuro. Perché i video sono importanti per il tuo business. Quindi al di là delle tue incompenze quotidiane, metterai in agenda anche quell'oretta, quelle due orette che dedicherai al tuo sviluppo imprenditoriale e professionale. Appunto tramite un appuntamento con me. E allora, che cosa stai aspettando? Io sono molto felice di collaborare con te e di aiutarti a sviluppare il tuo video public speaking. Ti aspetto nella mia community su www.chiaralzati.it. Potrai iscriverti lasciando la tua migliore email, accedere ad una serie di risorse gratuite dedicate al miglioramento non solamente del public speaking ma anche del video public speaking. E ultimo ma non ultimo, potrai avere anche la possibilità di ricevere una copia gratuita del mio libro, Video Public Speaking. Ciao e al prossimo video!